Mentre i nostri vigili del fuoco e operatori del 118 continuano a scavare tra le macerie della Turchia due le vite salvate dalle mani italiane, è partita dalla Toscana una raccolta fondi ad annunciarla. È stato il presidente Eugenio Gianni per venire incontro, ha detto a tutti i toscani, alle toscane che in queste ore stanno manifestando la volontà di dare una mano per alleviare i gravissimi disagi delle persone colpite dal sisma, la regione mette a disposizione un codice IBAN per raccogliere le donazioni, un altro modo per stare vicino a quelle popolazioni dopo gli interventi di primo soccorso per i quali ci siamo già mobilitati fornendo assistenza sanitaria e di protezione civile, interventi preziosi per i quali ancora una volta, dice Gianni, voglio ringraziare tutti gli operatori in questo momento sul campo. Purtroppo le necessità di chi sta vivendo in queste ore nelle città e nei paesi distrutti al freddo e in mezzo alla neve sono moltissime e lo saranno ancora a lungo tempo. Sono sicuro, conclude Gianni, che la Toscana saprà dimostrare come sempre la sua capacità di rispondere con entusiasmo a questa richiesta di aiuto.